Un altro fattore di coesione fu l'urbanizzazione, vale a dire la fondazione di nuovi centri urbani. In Occidente, dove prevaleva lo stanziamento in piccoli villaggi, l'introduzione delle città da parte dei conquistatori romani costituì una vera e propria rivoluzione. Fondare una città significava riprodurre al di fuori dei confini dell'Italia il modello dell'URBS, della capitale dell'Impero, e imporre al contempo anche uno stile di vita e un modello culturale. Non a caso, la passione degli antichi romani per gli spettacoli è testimoniata dalla diffusione capillare degli anfiteatri e dei teatri in tutte le città dell'Impero. Così, per esempio, mentre a Roma veniva eretto l'anfiteatro Flavio o Colosseo alla fine del I secolo d.C., molti altri ne sorgevano nelle province. Per esempio, quello di Arles, in Francia, capace di contenere 12.000 spettatori, o sempre in Francia, quello di Nîmes, ancora oggi ambe due utilizzati. E ancora, del III secolo d.C., l'anfiteatro di El Jem in Tunisia. La costruzione fin nelle più lontane province di anfiteatri, terme, teatri, implicava qualcosa di ben diverso dal semplice controllo politico ed economico del territorio. Significava esportare stili di vita, di divertimento e anche modelli di disciplinamento delle masse. Per la plebe, pane e giochi del circo, come si diceva.